Per un minuto di storia con Mario oggi parliamo di Enrico Berlinguer, nato il 25 maggio del 1922, ebbene sì, oggi è il centenario dalla nascita del più amato dei segretari del Partito Comunista Italiano, segretario del PC dal 1972, quando fu eletto, alla morte, erano i tempi dei segretari a vita, Berlinguer morì durante un comizio tenuto per le elezioni europee, ebbe un ictus sul palco che poi lo condusse alla morte, attraversò la storia d'Italia e resta sicuramente un personaggio scolpito nella memoria della gente.